Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, oggi ci troviamo qui perché vogliamo leggervi uno straccio di una lettera che Padre Pio scrisse il 2 di agosto del 1913 a Padre Agostino, parlando della vanagloria. Ecco, noi apriamo una piccola parentesi su tutte le vostre lettere, continuate ad inviarci le vostre email che stiamo raccogliendo per poter condividere tutte le vostre storie, anche in queste ore stanno continuando ad arrivare tante email a questo indirizzo di posta elettronica che vedete in sovrimpressione, avevo modo di leggerle tutte e di raccoglierle, poi per poterle anche pubblicare. Ecco, tornando al 1913, Padre Pio si trovava a Pietrelcina perché, come ben sappiamo, una strana malattia lo costringeva stare a Pietrelcina, lui non poteva essere in altri conventi e dopo una piccola esperienza, ad esempio a Morcone è dovuto ritornare di nuovo nella sua terra natale. Tre anni da sacerdote. Ecco, che cosa scrive al suo padre spirituale? Nostro Signore scrive, per dimostrarci quanto la vanagloria sia contraria alla perfezione, ce lo dimostra con quella riprensione che fece agli Apostoli quando li vide pieni di compiacenza, di vanagloria, allorché i demoni si dimostravano obbedienti ad ogni loro comando. E per radicare bene i tristi effetti di questo maledetto vizio delle loro menti, allorché riesce ad insinuarsi nei cuori li atterrisce, ponendo così sotto i loro occhi l'esempio di Lucifero, precipitato da tanta altezza per la vana compiacenza che si prese le doti a cui il Dio lo aveva innalzato. Questo vizio, racconta Padre Pio, intanto più è da temersi in quanto non ha virtù contraria per combatterlo, infatti ogni vizio ha il suo rimedio, la virtù contraria, l'ira si atterra con la mansuetudine, l'invidia con la carità, la superbia con l'umiltà e via via dicendo. La sua vanagoria invece non ha virtù contraria per essere combattuta, essa si insinua negli atti più santi e perfino nella stessa umiltà se non si accorti in alza superba la sua tenda. Il demonio, caro Padre, è bene che un lascivo, un rapace, un avaro, un peccatore ha più da confondersi e da arrossire che da gloriarsi e perciò se ne guarda bene di tentarli per questo lato, ma se risparmia costoro da questa battaglia non risparmia intanto i buoni, massime chi si sforza di tendere alla perfezione. Tutti gli altri vizi predominano solo quelli che si lasciano vincere e dominare da essi, ma la vanagloria innalza la testa contro le stesse persone che la combattono e la vincono. Stiamo sempre allerta, non si lasci penetrare questo nemico così formidabile nelle loro menti e nei loro cuori, perché è entrato che egli sfiora, ogni virtù rende roda, ogni santità corrompe tutto ciò che è di bello e di buono. Temiamo tutti, caro Padre, questo grande nostro nemico, lo temano più ancora quelle anime elette, perché questo nemico ha un certo che di inespugnabile.